E adesso, e adesso, e adesso, e adesso, e adesso, come faremo? A ritornare indietro, ormai abbiamo sbagliato, ormai abbiamo sbagliato, come faremo? A ritornare indietro, 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 come faremo? E adesso, e adesso, e adesso, e adesso, come faremo? E adesso, come faremo? A ritornare indietro, come faremo? A ritornare indietro, come faremo?